Ciao carissimi, oggi 23 luglio 2024, io condivido con voi il solito video dell'approfondimento giornaliero dalla zona dell'operazione militare speciale oppure come ormai in molti chiamano questo conflitto la guerra tra la Russia e l'Occidente collettivo sul territorio dell'ex Ucraina. In questo video vi racconterò le notizie più importanti che sono avvenuti nelle ultime 24 ore in prima linea e anche nelle retrovie del conflitto ucraino. Innanzitutto a calar della notte i canali ucraini hanno segnalato un bombardamento congiunto con missili da crociera e droni Geran 2 sul conflitto nel distretto Shostkinsky della regione di Sumy nella regione di Odessa. Il comando regionale ucraina ha dichiarato che a seguito di un attacco missilistico russo la facciata di un edificio amministrativo di un'impresa privata, magazzini e camion di trasporto sono stati parzialmente distrutti a giudicare delle foto che arrivano dal campo grazie ai cittadini ucraini che continuano nonostante il divieto di fotografare e filmare tutto quello che accade attorno a loro. È stato chiaro che si tratta del centro logistico delle forze armate ucraine, sono presenti camion militari, mezzi militari, anche mezzi pesanti e si sentono le esplosioni secondarie, il che significa che nel luogo colpito si trovavano le munizioni. A Sebostopoli le forze di difesa aeree russe e le unità di guerra elettronica hanno rispinto un attacco dei droni UAV ucraini nella zona del nord e di Fiolent, sono stati distrutti più di 15 droni. I frammenti di un drone UAV sono caduti in uno degli uffici postali locali e un vetro di un camion parcheggiato si è rotto. Frammenti del secondo drone sono caduti vicino a un palazzo civile nei pressi di una sottostazione di tensione elettrica, evidentemente l'obiettivo vero dell'attacco. Nessun obiettivo civile o infrastrutture comunali in città è stato deneggiato. Nella regione di Bryansk due droni UAV ucraini di tipo aereo sono stati distrutti nel distretto di Sevsk e anche lì non ci sono i danni alle strutture. In direzione di Kharkov le forze armate ucraine hanno lanciato una serie di attacchi senza successo contro le posizioni russe vicino agli insediamenti Valciansk-Hutara e Gluboke. I militari ucraini non sono stati in grado di attraversare la zona grigia, sono rimasti colpiti dall'artilleria molto prima di riuscire ad avvicinarsi alle posizioni russe. A Volciansk si svolgono battaglie ad alta intensità tra le squadre operative, i russi stanno spingendo sulle posizioni degli ucraini. Ci sono rapporti dai ministeri della difesa di entrambi i paesi coinvolti nel conflitto che confermano nella direzione di Kupiansk i successi delle forze armate russe a Sinkovka, i russi avanzano in questa direzione. In direzione di Taretsk che sulle mappe online si chiama anche Dzerzhinsk, le forze armate russe nella città di Zelesne che si trova anche sotto il nome di Zelesne sulle mappe, sono avanzate lungo le strade Zetomersk, Kabzaria e Shlonea. Al sud del villaggio di Pivdina le truppe russe hanno conquistato le posizioni ucraine sul territorio della zona industriale trasformata precedentemente in una roccaforte ucraina. Sotto il controllo delle unità russe nella giornata di ieri è passata un'area larga di 3,5 km e profonda di 700 metri. A New York, che sulle mappe si chiama anche Novgorodsk, ieri si è verificato un avanzamento dei riparti russi in una sezione del fronte larga 2 km fino a una profondità di 1,2 km. I combattimenti attivi sono già in corso nella parte centrale del villaggio, le truppe russe utilizzano veicoli corazzati e aerei, le forze armate ucraine stanno rafforzando le riserve nella speranza di stabilizzare la linea del fronte, ma in questo settore hanno gravi problemi con la logistica nelle retrovie perché i russi usano l'artilleria di base e l'aviazione proprio per colpire tutte le strade sui quali gli ucraini cercano di effettuare il rifornimento. In direzione Pakrovske, a ovest di Avdeevka, le forze armate russe continuano la loro offensiva su un ampio fronte. Sono in corso pesanti combattimenti, le unità russe stanno ottenendo successo dopo aver occupato il villaggio di Pragres, a Novosiolovka, in Novosiolovka I. Sul fianco meridionale si svolgono le battaglie vicino a Karlovka e Jasnabarodovka, anche qui i russi sono avanzati negli ultimi 24 ore. Dalla direzione di Yuzhna Donetsk riferiscono dei successi delle forze armate russe a Krasnagorovka. Alla guarnigione ucraina sono stati tagliati i rifornimenti e si sono create le condizioni per il suo accerchiamento. Inoltre le truppe russe da Georgievka sono avanzate verso Maximiljanovka. Le forze armate ucraine stanno cercando di compensare la mancanza dell'artilleria di base con molti droni FPV con i quali rallentano avanzata dei russi. In direzione Vriemia, dopo la liberazione di Staramayorske e Urajainee, l'esercito russo ha iniziato gli attacchi verso il villaggio Makarovka e Blagadatne. Negli ultimi 24 ore i russi in questo settore hanno già creato diverse teste di ponte dai quali sfondano le posizioni ucraine con successo. Ci sono battaglie di posizioni sul fronte di Zaporozhye, colpi reciproci di droni, di artilleria. L'aviazione russa utilizza le bombe Fab 500 con moduli autonomi plananti UMPC per colpire le posizioni ucraine in prima linea e anche nelle retrovie. Di notte sono state segnalate interruzioni di corrente a Energodar e nelle zone circostanti. I droni delle forze armate ucraine hanno attaccato ancora una volta la sottostazione locale sperando di mettere in difficoltà la fornitura dell'energia alla centrale nucleare di Zaporozhye. In questo momento delicato Zelensky cerca di sfruttare la minaccia della catastrofe nucleare per costringere i curatori occidentali di non abbandonarlo. Nessun cambiamento in direzione di Kherson. Continuano combattimenti nella zona delle isole della pianura alluvionale del fiume Dnieper. I droni ucraini rappresentano una seria minaccia che non tutte le unità russe possono contrastare adeguatamente con i mezzi di guerra elettronica. Tuttavia i russi usano l'artilleria e l'aviazione per distruggere le posizioni ucraine sulla riva destra del fiume Dnieper. Nella regione di Belgorod di notte vicino al villaggio di Bagungaradok distretto di Barisav due auto civile sono state attaccate dai droni delle forze armate ucraine. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Al mattino nel villaggio di Shetinovka distretto di Belgorod un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un'auto civile che si muoveva lungo la strada. Tre uomini sono rimasti feriti e durante la giornata due bambini sono rimasti feriti nel villaggio di Nikolska distretto urbano di Shebekensk. Come vedete cari amici l'esercito ucraino e le autorità ucraine non smettono di utilizzare il terrorismo come un'arma soprattutto di informazione. Per loro è molto importante continuare a terrorizzare i civili e scrivere i rapporti entusiasmanti ai loro padroni occidentali. Anche nella regione di Kursk si registrano i numerosi attacchi delle forze armate ucraine al confine russo. Dopo il lancio dei droni ucraini nel distretto di Glushkovsky le linee elettriche sono state danneggiate e in alcuni luoghi sono scoppiati incendi che sono stati domati dai soccorritori volontari e dai vigili di fuoco. Per oltre 5.000 residenti della zona non c'era elettricità per più di 18 ore. Nella regione di Donetsk invece un civile è stato ucciso e sei sono rimasti feriti a seguito del bombardamento di artilleria ucraina che ha usato le munizioni a grappolo di produzione statunitense, munizioni che per l'ennesima volta vi ricordo sono proibite per l'uso da varie convenzioni internazionali anche dalla convenzione di Ginevra però ai terroristi nazi fascisti ucraini questo non ha alcuna importanza. Loro se ne sbattono ovviamente di tutte le convenzioni dell'ONU. Hanno una direttiva ricevuta da Washington e applicano questa direttiva massacrando i civili. Questa è una cosa che va avanti dal 2014. Non è cambiato ancora niente quindi l'operazione militare speciale russa continua e continuerà proprio per questo motivo per evitare che l'esercito ucronazista possa massacrare il popolo del Donbass e anche le popolazioni che vivono sul confine tra la Russia e Ucraina. Queste cari amici sono le ultime notizie. Io vi invito di approfondire tutto quello che il nostro mainstream occidentale non vi racconta abbonandovi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Sul mio canale ogni giorno io faccio più di 100 aggiornamenti parlando di ciò che succede realmente in prima linea, riporto le notizie obiettive che arrivano dai corrispondenti di guerra sia ucraini che russi, direttamente dai militari, condivido video, condivido materiale fotografico, tutto quello che non troverete sulle pagine dei nostri giornali oppure sui vari siti internet gestiti principalmente da finti esperti filoanglosassoni che vi raccontano ancora le bagianate sul fatto che l'esercito russo è in difficoltà, non ha munizioni, non ha le armi, combatte con le palle e smonta le lavatrici delle massaie ucraine per rubare i microchip. Ovviamente la situazione è molto diversa. Io parlo sul mio canale anche della tecnologia militare, di scienza, di geopolitica, quindi ci sono le notizie reali dal mondo multipolare che ci dimostra perché l'occidente purtroppo rimane sempre di più distaccato dalla realtà oggettiva, lontano, in una ramificazione totalmente falsa che si sviluppa fuori dalla direzione della realtà. Quindi vi invito di rimanere concentrati su ciò che succede realmente nel mondo. in questo momento è veramente un gesto rivoluzionario informarsi in maniera obiettiva. Io per questo vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, ripeto il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preciosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me e per il mio lavoro su queste piattaforme online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.